Grande dispiacere ha suscitato soprattutto tra i tifosi del Barretta la scomparsa avvenuta qualche giorno fa di Gaetano Daleno, per gli amici Nagnello, per tutti Pascialone. Spesso i soprannomi riescono a sintetizzare al meglio una figura, una personalità e Pascialone era perfetto per descrivere un omone che era una montagna di muscoli ma incapace di far male a una mosca, talvolta aggressivo ma senza intimidire mai nessuno, e di una ingenua bonomia di cui molti vilmente hanno approfittato. La vita lavorativa di Nagnello è stata divisa soprattutto tra il porto e lo scalo merci della ferrovia, faceva lo scaricatore e lo ricordiamo mentre con i sacchi da 50 chili in spalla scaricava i vagoni ferroviari senza mostrare apparente fatica. Naturalmente una vita lavorativa che, sfruttato selvaggiamente, è stata quasi interamente a nero, con il risultato che ormai anziano si è ritrovato praticamente senza contributi e quindi costretto a vivere con una misera pensione sociale. A ricordarlo sono soprattutto i tifosi del Barretta con qualche anno in più, quelli che lo hanno seguito sin dai tempi epici dello stadio Lello Simeone. Nagnello era infatti legatissimo alla squadra biancolossa, trascorreva tutto il tempo che gli lasciava liberi lavoro al campo sportivo, arrangiandosi nel dare una mano ai manutentori dell'impianto o ai magazzinieri pur di respirare l'aria dei biancolossi e poter restare vicino ai giocatori. Altri tempi in cui, durante le gare, non sorprendeva nessuno vedere Gaetano con tutta la sua mole fare da ingombrante raccatapalle. Non sono mancate le cattiverie di chi approfittava della sua bonomia, ma in tanti gli erano affezionati. Aveva 74 anni, gli ultimi un po' a causa della cattiva alimentazione e soprattutto per un'avanzata perdita di lucidità, ricoverato in una RSA di Trinitapoli, accudito sino all'ultimo dai suoi parenti più affezionati. Nella sua stanza, immancabile il poster della squadra del Barletta, il grande amore della sua vita. Abbiamo ritenuto giusto ricordare un uomo umile come Gaetano Daleno per gli amici in Agnello, ma che anche San Pietro, venendolo arrivare, ha sicuramente salutato con un affettuoso. Ue Pacialò.